questa è una bella delusione questa è veramente una bella delusione perché stasera non vincerla è un bel problema non c'erano risultati diversi dalla vittoria stasera ragazzi bisogna prendersi in giro questo è bisogna dirselo con grande sincerità e onestà perché stasera la Juve è sembrata molto disattenta la Juve è bella addormentata la Juve che ha concesso troppo noi siamo andati in svantaggio dopo tre minuti il Parma aveva già avuto una grandissima occasione prima di quei tre minuti oggi sono due punti buttati sono gli ennesimi purtroppo punti buttati della stagione perché la Juve ha già pareggiato troppe partite in Serie A la Juve è affetta da pareggite mi ricorda terribilmente il primo anno di Antonio Conte questa cosa qua però siamo indietro terribilmente indietro rispetto a quell'anno lì non sto facendo il parallelismo nel dirvi poi alla fine dell'anno vincere lo scudetto perché non conta un cazzo il parallelismo con il passato però mi sembra davvero quella stagione lì quella stagione in cui delle partite che devi vincere o devi perdere poi invece le vai a pareggiare è un bel peccato perché questi due punti che non fai stasera vanno a mettere sotto tutta un'altra luce anche la partita di San Siro perché l'Inter oggi ha vinto con l'Empoli quindi è allungato su di te il Napoli ha vinto con il Milan quindi è allungato su di te non posso non guardarle queste cose le devo guardare devo per forza di cose mantenere un focus poi vedremo alla fine dell'anno dove arriveremo però sono sono punti che secondo me alla fine dell'anno peseranno peseranno abbastanza il brutto è stato vedere una Juve che questa partita la poteva pure perderla poteva perderla la Juve questa partita poi apprezzabilissimo il finale con questa carica della Juventus per cercare di andare in avanti cercare di andarla a vincere cercare di provare a portarsela a casa però Juve è rischiato troppo ma anche prima di questo break dove nel finale la partita è implosa su se stessa Juve e il Parma avevano praticamente più filtri a centro campo e andavano avanti 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 su giù dato 5 minuti di contropiedi continui dove sicuramente gli amanti dello spettacolo saranno stati contenti mentre gli amanti della tattica un po' meno sicuramente gli allenatori non saranno stati contenti di quel frangente la Juve oggi non ha giustificazione davvero non c'è un modo per mettersi qua a mandare giù la pillola in maniera un po' più dolce l'unica cosa che si può dire è che la Juve sta iniziando a prendere troppi gol troppi gol perché non sono solo i 4 di San Siro ma sono anche i 2 in casa col Parma e dall'infortunio di Bremer è inutile negarselo anche questo l'eventus ha perso troppa sui dettagli di dietro poi io sono dispiaciutissimo di vedere che questa squadra anche nel turno infrasettimanale anche nella partita la turnover non può permettersi di mettere Danilo cioè se se Danilo non lo metti nemmeno nelle partite qui deve fare turnover in casa con una neopromossa il martedì sera nell'infrasettimanale mercoledì sera nell'infrasettimanale ma quando lo metti perché anche stasera l'eventus ha ballato tantissimo dalle parti di Danilo purtroppo le ultime tre partite che sono le tre partite in cui ha giocato Danilo una l'è persa due le ha pareggiate e hai subito 7 gol cioè questi sono i dati questi sono numeri nel momento in cui hai tolto Caluru Gatti dal centro della difesa sei arrivato a questa situazione e mi dispiace perché oggi era davvero la partita in cui Danilo aveva senso schierarlo per il turnover pure a quanto pare anche in queste partite qua fa fatica ma ora non è che si va a buttare la croce tutta addosso a Danilo in questa partita ci mancherebbe altro sarebbe stupido e miope come ragionamento era una considerazione fra le tante che vanno fatte è una Juve ragazzi che che non va è una Juve che non va ma troppo piano la Juventus la Juventus non accelera o se lo fa lo fa perdendo totalmente l'equilibrio difensivo che l'aveva contraddistinta in questo video di campionato cioè non c'è una via di mezzo questa Juventus è una Juventus di estremismo o è una Juve che non prende nemmeno il tiro in porta però poi faticano davanti oppure una Juve che subisce perché va a strappare sulle ripartenze bisogna prendere il meglio di questi due mondi bisogna riuscire a creare un'alchimia tra questi due modi di giocare per forza di cosa perché se no non potrai mai raggiungere un punto di stabilità all'interno di una partita all'interno di una stagione cioè questa Juve non ha certezze oggi perché la certezza prima era una difesa prima era una fase difensiva di livello non è coincidenza è che la Juventus le ultime due partite fa sei gol e prende sei gol cioè mettiamoci questa cosa in testa prima abbiamo parlato di Danilo ma non è una coincidenza perché la Juventus gioca con due esterni pure la Juventus ha giocato 4-3-3 in queste due partite cioè l'obiettivo di Tiago Motta era proprio questo cercare di aprirlo sto gioco cercare di aprire il gioco cioè questa è è la volontà per andare a ripartire con questi giocatori che non è una cosa sbagliata attenzione mettiamoci in testa questo la ripartenza non è una cosa sbagliata però come dicevo prima se la Juve riparte si spacca completamente e prende delle grandi transizioni questo è il gran problema di questa squadra è questo qui io purtroppo non posso accettare che la Juve vada a subire delle occasioni dal Parma in questo modo non è possibile cioè il secondo gol che prendiamo è un gol che è difficile a mandare giù perché quanto di più sbagliato possibile c'è tutto di sbagliato nel secondo gol che andiamo a prendere è stato fatto un pessimo lavoro dal punto di vista del collettivo ma questo lo sanno anche loro ma lo sappiamo tutti non c'è nemmeno bisogna di star qui a raccontarsela però è una roba talmente tanto impattante emblematica che ti descriva alla perfezione quello che oggi è la Juventus che la devi tirare su cioè ragazzi io adesso dirò una roba poi ci ripenso mentre ragiono sulle pagelle ma il miglioro in campo è Locatelli miglioro in campo è Locatelli cioè Locatelli secondo me stasera ha fatto una gran partita però anche questo secondo me dovrebbe descrivere alla perfezione quello che è la Juve oggi finalmente ci siamo sbloccati da piazzato non so se devo tirare fuori le cose positive guardate quali sono le cose positive ci siamo sbloccati da piazzato abbiamo rimontato ancora quindi abbiamo dimostrato che riusciamo a rimontare possono essere aspetti positivi questi certo che no sarebbe prenderci in giro non siamo qui per questo siamo qui per dirci le cose in faccia le cose in faccia sono che questa Juve non sta funzionando e lascerei da parte la classifica perché oggi stiamo facendo esattamente il discorso opposto rispetto a quello che facevamo qualche settimana fa qualche settimana fa eravamo qui a dirci la Juventus non crea occasioni da gol questo era il punto di discussione di qualche settimana fa oggi siamo qui a dirci la Juventus non crea occasioni da gol se non decide di non andare a subirne cioè bisogna davvero trovare il punto in cui queste due filosofie vanno a combaciare se no non riuscirei mai a dire sto giocando bene una partita Tiago Motta sta spingendo anche nelle conferenze stampa su un concetto in particolare che è quello del meritarsi le vittorie la Juventus non ha meritato di vincere stasera nonostante il grande sforzo nel finale nonostante la gran voglia dimostrata di portarsi a casa la partita l'ha messa anche il Parma quella ed è una neopromossa che viene a giocare all'Alien Stadium cioè la Juventus non merita di vincere le partite questa è la cosa grave questa è la cosa brutta è la doccia fredda della verità che dobbiamo raccontarci la Juventus non merita di vincere le partite questo è perché dall'altra parte si trova sempre delle squadre che o ti vengono ad attaccare e se ti vengono ad attaccare come stasera se tu fai troppi errori tecnici di lettura di collettivo individuali tutto quello che è stato questo Juventus Parma li paghi oppure si metta lì dietro e tu non riesci a scardinare la difesa oggi la Juventus non sta funzionando cioè se nel primo mese di campionato ci raccontavamo che oh questa Juventus forse è anche più avanti di quanto potevamo aspettarci dal punto di vista della mentalità della costruzione eccetera eccetera oggi invece che non siamo più al primo mese ma siamo praticamente a novembre secondo me è giusto raccontarci che siamo molto indietro infortuni indisponibili tante partite Bremer che si è spaccato il crociato con Meners che non ce l'hai Nico che non l'hai mai avuto Douglas Lewis che è un punto di droghe quello che volete però la Juventus comunque oggi è molto indietro perché è logico che una squadra abbia necessità di tempo per iniziare ad ingranare però preoccupante oggi arrivare a pensare che la Juventus o non prende tiri in porta ma non riesce ad attaccare o crea delle occasioni ma balla così tanto che va a prendere due gol dal Parma in casa questa secondo me è una riflessione che deve portarci a preoccuparci poi iniziamo a entrare nelle scelte perché ripeto non è tanto stasera Danilo è Danilo con lo Stoccard è Danilo con l'Inter anzi si presuppone il fatto cioè si mette in previsione perlomeno il fatto che alla terza partita consecutiva cioè o non gioca mai un giocatore allora dice ah beh questo non gioca mai è difficile che prenda ritmo partita se ne gioca tre di file prende ritmo partita se per tre partite è il peggiore in campo diventa preoccupante eh diventa veramente preoccupante diventa una cosa che che devi metterti qua e dire cavolo allora forse faccio giocare sempre la ragazza della next gen e non provo neanche a recuperarlo perché io credo che Tiago Motta stia cercando anche di recuperarlo un giocatore come Danilo che magari finché c'era Bremer dici vabbè posso per me cioè i miei tre divisori centrali possono essere gatti Calulu Bremer rotazione se proprio proprio è una certa metto Danilo adesso sei siccome è anche obbligato a recuperarlo dal punto di vista fisico dal punto di vista mentale ma è una bella fatica come fai adesso a recuperare questo giocatore che quando gioca se io fossi l'allenatore avversario della Juventus ogni partita l'unica cosa che dico al mio attaccante gioca su Danilo perché puoi indurre la Juventus all'errore ma non è ripeto lo torno a dire non è solo un problema di Danilo però poi penso alle ultime tre partite e le ultime tre partite con Danilo dal punto di vista difensivo non siamo stati affidabili poi la fase difensiva parte dall'attaccante Vlaovic stasera ecco la roba che non ho detto Vlaovic sbaglia un gol che è troppo facile perché è l'ennesimo gol troppo facile di Vlaovic è fuori gioco non è fuori gioco era buona non era buona non me ne frega niente poi ci penseremo poi lo valuteranno al VAR poi lo vedremo intanto fai gol stasera ha avuto tre occasioni in fuori gioco è una alta è una alato è una poco potente oh ma devi fare gol devi buttare la palla dentro devi quantomeno impegnare il portiere devi fargli fare una parata di quelle che proprio si deve superare poi se fuori gioco te lo annullano e va bene amen ma buttala dentro perché se invece non è fuori gioco facciamo gol ed è una banalità sto dicendo che l'acqua è bagnata praticamente però non è possibile che queste palle non le buttiamo dentro anche da situazioni favorevoli e questo è il punto e questo è il punto lo so che Turan perde l'attimo sulla terza palla di Vlaovic ma Vlaovic buttala dentro lo stesso anche se Turan perde l'attimo anche se sono gli altri che sbagliano è comunque il gran gol che ha sbagliato ovviamente intendevo il primo nel primo tempo boh mi sembra che questa squadra possa davvero accelerare soltanto quando passerà con Seisau ed è una sconfitta per una squadra che deve per forza di cose giocare in maniera corale lo ha detto lo stesso Tiago Motta non lo dico io dice l'allenatore della Juventus quindi viene logico pensare che se l'allenatore ha una certa concezione di calcio di giocare bene a calcio per meritarsi del partito e tenere il risultato e la Juventus questa concezione di calcio non la sta mettendo in campo è logico pensare che semplicemente oggi la Juve non sia a livello di consapevolezza chi ha in testa l'allenatore della Juve e che quindi la Juve semplicemente non meriti di vincere le partite questa è l'analisi è un'analisi fredda dura ma credo che sia giusto farsi una bella analisi dura perché se non le facciamo adesso questa analisi qua e andiamo a raccontarci che va tutto bene che però la palla la teniamo noi che però recupereremo gli infortunati che però arriveranno momenti migliori ci stiamo raccontando un sacco di fregnacce quando l'unico modo per riuscire davvero a risolvere i problemi è individuarli prenderli e entrarci di testa e lavorare per risolverli forza Juve perché questo è un momento molto duro perché poi sabato giochiamo ancora poi abbiamo la Champions poi abbiamo il derby c'è la pausa nazionale poi c'è il Milan sapevamo che era molto molto duro questo blocco di pausa nazionali prima delle pause nazionali di novembre sapevamo che l'Eventus avrebbe dovuto fare tanti punti sapevamo che non poteva sbagliare le partite con Parma e Udinese e invece le abbiamo sbagliate e non voglio guardare la classifica voglio guardare soltanto il campo e il campo oggi è una spia è un allarme forza Juve grazie